Se volete andare a piangere al teatro, visto che al teatro ormai non si piange più Certo, volete che, ma dove? A Rebibia A come in caccia? Stai scherzandosi, prendi in giro In jail? Are you kidding? Is this a joke? Ha insistito, e allora, diffidenti, siamo andati Pomeriggio, carcere di Rebibia, nel loro piccolo teatro Nella luce di un riflettore c'era un detenuto La cosa importante da dire è che questo teatro, il nostro film, hanno recitato solo personaggi dell'alta sicurezza Cioè, mafia, camorra, andrangheta, fine, pena, mai Um, we want to say that all the characters and actors in this movie are all prisoners of high imprisonment It means mafia, camorra, andrangheta and it means end of the pain, of punishment, never Questo uomo sui 40 anni, un uomo forte Stava recitando quella sera con gli altri L'inferno di Dante That man in his forties, big man, strong man Was doing that night, Dante, the hell, inferno Lui doveva rendirci e raccontarci la storia di Paolo e Francesca Intanto ci disse subito, io la dico in napoletano, come se fossi nella piazza del mio paese E noi che siamo Toscani, e che amiamo il Toscano di Dante, abbiamo avuto anche dubbio Ma la sua voce, il suono della sua credenza veramente ci hanno subito preso Lui ha cominciato a leggere i versi di Dante su quest'amore grande, terribile e condannato Lui ha cominciato a leggere i versi di Dante su quest'amore grande, terribile e condannato Eh, però ci ha detto prima Voi certo che siete qua, amate questo canto, sapete il dolore di quest'amore Ma mai lo potete capire come noi possiamo capirlo Perché anche i nostri amori sono grandi, disperati e condannati Perché le donne che amiamo, se sono fuori e ci aspettano Noi siamo Noi siamo Noi siamo